Buona giornata amici da Massimo Foghetti, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Ci ritroviamo dopo le feste, i giornali sono pieni di notizie e ovviamente ci dicono come i cittadini hanno trascorso la Pasqua, che effetto ha avuto il turismo, insomma due giorni di pace e di tranquillità nel nostro territorio. Oggi è martedì 11 aprile 2023 e vediamo subito chi si festeggia oggi. Oggi si festeggia Santa Gemma Galgani, la vediamo qui. È una vergine che visse nel XIX secolo. Nacque a Camigliano di Lucca nel 1878, sopportò molte prove durante la sua fanciullezza, provò la malattia, la perdita degli averi di famiglia tanto che la ridusse in povertà, la morte della madre. Ebbe il dono delle stimmate, fu una grande mistica. Questa è Santa Gemma Galgani. Le previsioni del tempo? Passiamo subito a vedere come si evolve la situazione atmosferica e vediamo che per oggi le previsioni dicono cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con il transito di velature dal pomeriggio. I venti saranno al mattino moderati, al pomeriggio tesi, da est e sud est, il mare poco mosso, le temperature si aggireranno tra i 6 gradi e i 16. Questa è l'escursione termica della giornata. Ed ora apriamo i giornali. A partire dal resto del Carlino, vediamo subito l'apertura. E vediamo come c'è un commento piuttosto salace da un ex parlamentare. Si tratta di Francesca Puglisi, la quale, tornando da Bologna, ora non è più parlamentare, attacca duramente l'amministrazione comunale fanese per certa insensibilità, lei dice, ambientale nei confronti del territorio. Il cantiere, la variante, l'agrivoltaico, su seri, gli strali dell'ex senatrice del Partito Democratico. Ebbene, Francesca Puglisi non vive a Fano, vive a Bologna. E tornando a Fano, si è rimasta letteralmente sorpresa da certi cambiamenti, da lei giudicati non in sintonia con una politica di tutela ambientale da parte dell'amministrazione comunale. Mi dicono i residenti che l'agrivoltaico è in procinto di devastare le colline e le pianure fanesi, afferma. E soprattutto se la prende anche con il contiere della Wider, che sta sorgendo nell'area adatta alla cantieristica nel porto di Fano. E poi ancora parla della zona dell'ex zuccherificio, che è lì abbandonata da tanti anni. E poi l'anfiteatro romano, insomma, tira fuori tutte le situazioni problematiche che da anni sono presenti in città, probabilmente se ne accorta ora. A Pasqua i turisti non sono potuti entrare a visitare gli scavi romani, perché chiusi, mentre la passeggiata della Sassonia resta piena di buche e sterpaglie. Unica opera fatta in questi anni è il ripristino della Rosa dei Venti, ha dichiarato. Ma non solo. A Bologna, dice, se noi governassimo così a Bologna, ha concluso la Puglisi, ci inseguirebbero con i forconi. Ebbene, sono veramente parole pesanti nei confronti di un'amministrazione comunale governata anche come partito di maggioranza dal Partito Democratico, di cui la Puglisi fa parte. Mentre per quanto riguarda invece il piano regolatore generale, abbiamo un articolo di Spalla, pubblicato oggi dal resto del Carlino, che evidenzia come lo strumento urbanistico si è stato presentato agli ordini professionali nei giorni scorsi. Un incontro che si è svolto nella sala riunioni dell'ex chiesa Santa Maria del Gonfalone. L'hanno presentato il sindaco Massimo Seri e soprattutto l'assessore all'urbanistica Cristian Fanesi. Il PRG al giudizio degli ordini professionali intitola il resto del Carlino. Altro articolo di apertura nella seconda pagina, una istanza che viene evidenziata dagli albergatori, che ora viene anche accettata e fatta propria anche da un operatore della cantieristica. Uno scalo dall'Aggio all'ex go-kart, per eliminare il transito delle grandi barche su Viale Adriatico, dove ci sono diversi alberghi. Ebbene, ogni volta che passa un grande yacht, i clienti degli alberghi sono costretti a spostare le loro auto in un parcheggio che non si trova nelle vicinanze. E questo provoca non poco disagio agli operatori turistici. Quale sarebbe la soluzione? Sarebbe quella di realizzare uno scalo dall'Aggio davanti all'ex pista dei go-kart, in modo che le barche, trassitando sul cavalcaferrovia che unisce Viale Piceno appunto a Viale Ruggeri, possano evitare di percorrere lo stesso Viale Ruggeri e poi Viale Adriatico, perché vanno direttamente in mare attraverso questo scalo dall'Aggio, questo molo. E poi da lì vanno sempre percorrendo il mare, sempre navigando sul mare, il porto di Fano. Teodoso Spici è l'operatore che auspica questo provvedimento, lui stesso è titolare della società ICM, una società che opera nella cantieristica, interviene nel dibattito. Si risolverebbero tutti i problemi, i terreni appartengono al Comune per i vari, per i vari il varo delle barche, basta semplicemente fare una piazzola per l'autogru. Questa è un po' la soluzione che viene evidenziata. Abbiamo una intervista appunto a Teodosio Auspici, che tra l'altro occupa un rilievo politico, essendo il leader di una forza politica di sinistra. Autosbanda, abbatte un palo e cappotta. Anche il giorno di Pasqua si sono verificati degli incidenti. Si tratta di un incidente che si è verificato in via Flaminia a Fano. Era poco dopo passato mezzogiorno, le 12.50, quando un'auto, una Citroen C3, condotta da un riminese del 1962, con a bordo un'altra riminese di 57 anni ed una fanese di 33, percorrendo la via Flaminia, è andato a sbattere, ha fatto tutto da solo, l'auto è andata senza controllo, contro una recinzione della ditta RC, per finire poi addosso al palo dell'illuminazione pubblica, abbattendolo addirittura. Poi la barca si è capottata, quindi un incidente piuttosto spettacolare. Ebbene, il conducente è stato trasportato al pronto soccorso di Fano in codice giallo, la passeggera di Rimini in codice verde a Fano, mentre l'altra trasportata è rimasta illesa. Quindi due feriti, uno piuttosto grave, ma insomma non in maniera eccezionale, l'altra in codice invece meno grave. E veniamo anche alla sanità. C'è una notizia che interessa in modo particolare gli anziani. Covid. Il centro vaccini non va in pensione, ma sarà l'unico per tutta la provincia. E chi vuole fare una azione per difendersi contro il Covid non deve andare più al codma, ecco, non deve andare più al codma, ma deve andare al nuovo ambulatorio di via Togliati. Con il virus ormai diventato residuale, si archivia la stagione del codma, lo possiamo dire ormai. L'azienda sanitaria ha preso incomodato gli spazi di via Togliati, dato il numero esiguo dei richiami. Non servirà affatto la prenotazione. Però c'è anche un consiglio. Soprattutto agli anziani sopra gli 80 anni e alle persone fragili, i medici consigliano ancora di effettuare le ricorrenti vaccinazioni, anche se in una fatte tre o quattro si continui a vaccinarsi, ovviamente nei tempi e nei modi opportuni, perché questo costituisce una difesa importante per coloro che hanno una certa età. Una rete di laghetti per combattere la siccità. È il tema che caratterizza un incontro che è stato programmato venerdì prossimo a Calcinelli alla presenza di esperti. L'estate è alle porte. La crisi ci sarà, indicano gli esperti, perché poi la penuria di acqua si riproporrà anche quest'estate. La primavera è stata abbastanza piovosa, dobbiamo dire, contrariamente all'inverno, dove c'è stato anche qui della siccità. Quindi la siccità diventa un problema per il nostro territorio, lo diventa per l'approvvigionamento idrico, lo diventa anche per l'agricoltura. Quindi è importante preservare l'acqua, l'acqua che cade nel cielo. E la proposta è quella di costituire dei laghetti che possono servire come riserve nei momenti più critici appunto dell'approvvigionamento idrico. Affrontiamola questa situazione come si deve, e questo è un po' l'invito che proviene da Colli al Metauro. Giriamo ancora la pagina sul resto del Carlino e siamo ad Urbino. Come hanno passato gli urbinati e i turisti che hanno visitato la città ducale nel giorno di Pasqua? Molto molto bene perché Urbino attrae sempre con tutte le sue meraviglie e con tutta la sua suggestione di carattere rinascimentale folle di turisti. Turisti all'assalto di Urbino, tutti in sinagoga. Ebbene la visita della sinagoga è stata un po' la ciliegina sulla torta, dobbiamo dire, la sinagoga non è aperta sempre. E quindi poterla visitare, poter poi essere dotti sui racconti della presenza degli ebrei a Urbino, delle relazioni con la popolazione residente, con l'importanza che ha avuto questa etnia nella economia e nella socialità della città ducale, è stato veramente una scoperta. Pasqua e Pasquetta hanno dato un assaggio di come andrà la stagione estiva. Il Tempio Ebraico tra i luoghi più ammirati, afferma appunto il giornale. La città di Urbino in questi due giorni, domenica e lunedì, è stata letteralmente presa d'assalto dai visitatori, facendo felici strutture ricettive, ovviamente registrando un'alta affluenza in tutte le realtà museali e culturali aperte. A partire dalla meta principale, la Galleria Nazionale delle Marche, che si trova a Palazzo Ducale, e poi anche Casa Raffaello, gli oratori di San Giovanni e di San Giuseppe, con i magnifici affreschi, la sinagoga stessa di cui abbiamo parlato, e poi tutte le chiese che facevano parte di un percorso che è stato già annunciato nei giorni scorsi. Insomma, Urbino non ha deluso i visitatori che l'hanno affollata. Vediamo anche un'altra notizia. L'aula Snoezelen piace a Mattarella. È un titolo che proviene da Tavoleto. È stata realizzata una struttura all'avanguardia per accogliere gli studenti disabili, il che ha attirato l'attenzione del Quirinale. Tavoleto, sabato alle ore 10, è pronta ad inaugurare la nuova aula terapeutica multisensoriale dal nome Snoezelen, che è tutto un programma, ovvero il progetto realizzato all'interno della scuola Basilio Giorgi di Corso Vittorio 25 a Tavoleto, è talmente all'avanguardia da ricevere l'encomio addirittura del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Autovelox di Cagli è una sorpresa, le multe vanno annullate. Ebbene ha fatto ricorso, pensate chi? Luca Rodolfo Paolini, l'ex deputato della Lega, nelle sue vesti di avvocato. Ha scoperto diverse irregolarità nell'attività e nella posizione di questo autovelox e quindi le multe devono essere annullate. Non sarebbe la posizione giusta, secondo il regolamento che prevede appunto l'installazione di questi dispositivi e poi nemmeno il fatto che, siccome è stato messo in una curva, mentre avrebbe dovuto essere messo in un rettilino, tutto quello che consegue è irregolare. E quindi l'ex deputato ha fatto ricorso, ha segnalato questa situazione a diverse istituzioni, alla Prefettura, all'ANAS, al Comune, alla Polizia Stradale. Insomma ha detto guardate che tutto quello che è stato fatto con quel dispositivo non è valido e le somme vanno rimborsate. Andremo a vedere come finirà questa situazione. Certo è che chi ha avuto multe, c'è chi ne ha avute parecchie, e sono multe particolarmente esose, ebbè potrà avere un respiro di sollievo. Ed ora diamo un'occhiata anche alle pagine, alle pagine pesaresi. Vediamo come il restauro, la ristrutturazione dei grandi palazzi di 7-800 a Pesaro procede a sprombattuto. Ora si parla di Palazzo Mazzolari Mosca, uno degli edifici di una famiglia nobile che per Pesaro ha fatto tanto. Basti pensare ai musei civici che sono a Palazzo Mosca, con tutti i beni, con tutte le opere d'arte che la Contessa, la nobile Vittoria Mosca, lasciò al Comune. Palazzo Mazzolari Mosca restauro per 8 milioni, ma al posto dei turisti ci saranno i muratori. Sì, perché questi interventi sono previsti soprattutto nel corso del prossimo anno, quando Pesaro è all'avanguardia, perché è all'apice della promozione turistica, perché è appunto capitale nazionale della cultura. E quando Pesaro sarà invasa per la capitale italiana della cultura, questo palazzo sarà nel pieno dei lavori. A settembre l'appalto, a settembre di quest'anno, l'appalto con le impalcature e camion purtroppo in via Rossini, a poca distanza dalla casa di Rossini. Quindi sarà una via molto molto trafficata via Rossini il prossimo anno. Ma vediamo un attimo questo piccolo trafiletto che ci dà un ritratto della nobile Vittoria Mosca che lascia tutto al Comune. Nell'ascito, che risale al 1885, la nobildonna donava la sua collezione d'arte alla città. E quelle opere oggi riempiono gran parte dei musei civici. Quindi un lascito veramente importante. Un po' come quello che ha fatto lo stesso Rossini che donò il suo patrimonio alla città con l'istituzione della Fondazione Rossini. Quindi le opere, il teatro, il conservatorio e via dicendo. E poi un'altra sorpresa. Un'altra sorpresa perché nonostante che Pesaro diventi nel prossimo anno capitale nazionale della cultura si restaura anche un altro palazzo importante quello che contiene la Biblioteca Oliveriana. L'Oliveriana chiuderà per lavori caos e trasloco per 400.000 libri e non sarà pronta nel 2024, cioè il prossimo anno. La buona notizia è che ci sono i fondi per restaurare un po' tutto il palazzo. Ma poi iniziano i problemi. dove sistemare i libri. Sembra che si sia docchiato un capannone a Villa Fastigi. Però, insomma, per due o tre anni questi libri non saranno disponibili. E quindi l'unica cosa per accedere all'ascita della biblioteca sarà quello farlo tramite computer, per quello che è stato computerizzato. Anche questo è un palazzo importante che deriva dalla nobile dimora di Annibale degli Abati Olivieri, il fondatore dell'istituto Un Grande Erudito. Un erudito che visse nel XVIII secolo è stato un grande archeologo, numismatico e bibliofilo. Ha fondato lui stesso la Biblioteca nel 1787. Quindi un importante lascito. Pensate, il Papa ha fatto 90 telefonate a una famiglia pesarese. Nella novantesima telefonata il Pontefice ha rievocato il recente ricovero. Le telefonate vengono fatte alla famiglia Ferri, a quella famiglia che ha perso uno dei suoi figli in un assassino veramente truce. Accaduto in un distributore di benzina alcuni anni fa. Michele Ferri è l'amico Papa. Bergoglio si confida. Me la sono vista brutta parlando appunto del suo ricovero ospedaliero. Ma l'informatico dice si è rimesso. Stavolta ho sentito una voce squillante. Vediamo Michele Ferri in questa fotografia che tiene in grembo un'immagine della Madonna. E qui l'incontro che la famiglia Ferri ha avuto con il Papa. Novantesimo a chiamata, cifra tonda. Non esiste infezione polmonare, non esistono impegni pasquali o scenari internazionali da gestire. Niente e nessuno, neanche i problemi di salute che impediscono al Papa di mantenere i contatti con questa famiglia pesarese. C'è un vincolo di amicizia ormai inscindibile. Giriamo ancora la pagina e parliamo del problema della mancanza di psichiatri. SOS, mancano gli psichiatri. Assunzioni? No, non pervenute. Biancani, il consigliere regionale del Partito Democratico, dice per nuovi bandi bisognerà attendere mesi intanto le famiglie restano soli. Ed è un sussidio importante quello degli psichiatri che possono aiutare famiglie e persone nei momenti più importanti della loro esistenza quando vivono dei momenti difficili. Ed ora passiamo al Corriere Adriatico. L'apertura, sulla pagina di Fano, è dedicato ad un problema che si è acuito nei giorni di Pasqua, quello dell'invasione dei camper, una invasione che i campeggiatori, così come avvenuta, considerano irregolare. Un parcheggio dedicato a camper che, secondo gli albergatori, si trasforma in modo piuttosto reiterato in un'area di sosta, cosa che non potrebbe fare. Il parcheggio occupato dei camper esplode la rabbia dei campeggiatori. A Medeo Tassi, che è un po' il portabandiera di questa categoria, dice inammissibile la gestione in Viale Ruggeri, niente tassa di soggiorno e concorrenza sleale. Ebbene, nei parcheggi non è previsto il pagamento della tassa di soggiorno e non è prevista nemmeno la registrazione. Questo però crea alcune rimostranze da parte dei campeggiatori che sono invece oberati da questi obblighi, quindi devono sia riscuotere la tassa di soggiorno e poi versarla al Comune, devono registrare tutto quanto, insomma, hanno degli obblighi importanti. Però, insomma, vogliono che questo parcheggio diventi veramente un parcheggio e non un campeggio, così come qualche volta è stato visto. È stato fatto ora, si sta facendo ora un ricorso alla Prefettura, si è fatta anche una segnalazione ai vigili urbani i quali sono intervenuti, nel giorno di Pasqua hanno fatto dei controlli, però al momento non hanno trovato nulla di irregolare, però, insomma, la situazione è molto, è molto tesa, è molto acuita. E vedremo come andrà a finire. L'Associazione Albergatori ha chiesto alla Polizia Locale un controllo sulla attività. E qui, a fondo pagina, abbiamo una rimostranza da parte delle associazioni ambientaliste per quanto riguarda le previsioni del progetto di Waterfront a Torrette di Fano. Troppo cemento, troppo cemento in prossimità delle spiagge e si snatura un po' l'assetto ambientale di questo territorio. Si eliminano le dune che sono importanti per la flora, per la fauna e lì infatti nidifica anche un particolare specie di uccello, il fratino, che è molto raro e quindi questo troppo cemento disturba e sconvolge un po' quello che è il territorio. Per cui gli ambientalisti e sono esattamente Lupus Infabula, Largonauta, Italia Nostra, Italia Nostra Pesaro e il WWF Marche che hanno inoltrato al Comune un esposto, un corposo documento che segnalano questi problemi. E poi il giorno di Pasqua che cosa è accaduto? E' accaduto un terremoto, un terremoto che non tutti hanno sentito e si è verificato alle 16.02 a largo della costa fanese a 10 chilometri di profondità all'oltezza di Torrette, una magnitudine pari a 3.1. Insomma, ancora continuano le scosse di terremoto. Qualcuno forse se l'è dimenticato, la grossa scossa che è avvenuta l'anno scorso in pieno autunno, ha trascosso a largo di Torrette svolta per lo stato di emergenza, nessuna conseguenza ovviamente per queste nuove scosse, comunque è stato registrato a Pasqua. C'è anche una segnalazione da parte dell'assessore alla protezione civile Cristian Fanesi che ha tranquillizzato un po' la popolazione, nessun danno quest'anno contrariamente a quanto è avvenuto invece l'ultima volta, la volta scorsa. E poi una richiesta dedicate a Giacomo Cesaretti, l'operaio, il giovenissimo operaio di 26 anni deceduto nel corso del suo lavoro in una zona industriale di Bellocchi dedicate a Giacomo il parco di Via Dolomiti è il desiderio degli amici del giovane operaio morto era quello il luogo del loro ritrovo. Passiamo passiamo alla Val Metauro dove si parla del convegno di cui ho già relazionato per quanto riguarda la richiesta di bacini per le risorse idriche in caso di siccità e allora passiamo a Marotta dove si preannuncia la festa dei Garagoli. Ebbene il comune di Mondolfo di cui fa parte anche Marotta dopo la sagra degli spaghetti la sagra che ha così radunato tantissime persone nel piccolo centro ora ne fa un'altra di grande importanza quella del centro balneare di Marotta questa è una sagra storica che raduna moltissime moltissime persone i Garagoli anticipano l'estate sono quattro giorni di festa quest'ultima si terrà dal 22 al 25 aprile ci saranno mercatini spettacoli e un maxi stand ben quattro giornate da trascorrere tra i piaceri della tavola e il mare con tante proposte per tutta la famiglia grazie a un ricco e variegato programma ebbene il programma è annunciato in questo articolo abbiamo musiche un programma musicale tante iniziative anche per i bambini clown spettacoli di magia trucca bimbi baby dance area giochi di puffi poi ancora avremo uno spettacolo di barzallette karaoke insomma c'è veramente di che trascorrere dei giorni in allegria ma soprattutto gustando i buoni i garagoi piscati nelle nostre coste e poi e poi e poi passiamo a Senigallia passiamo a Senigallia dove invece la giornata di Pasqua non è stata molto tranquilla il giornale riferisce doppia lite brividi sulle lungomare feriti un pedone e un automobilista il primo finisce contro un veicolo il secondo schiaffeggiato da un ciclista nel giorno di Pasqueta quindi una Pasqua turbolenta era l'ultima notizia a questo punto non mi rimane che salutarvi darvi appuntamento a domani alle 7 per una nuova rassegna stampa grazie per l'ascolto a risentirci a domani a domani a domani Grazie.